Buonasera, siamo qui dall'EVA di Nuremberg 2018 con Guido Boito, il responsabile marketing dell'azienda Crispi, un'azienda che ha bisogno di poche presentazioni, presente sul mercato italiano e non solo da moltissimo tempo, produce calzature da catch, da trekking e di genere anche diverse rispetto a quello che è il nostro utilizzo con Guido, ci vuoi presentare una nuova novità quest'anno? Sì, quest'anno presentiamo il nuovo island mid, sostanzialmente è una declinazione del classico island che abbiamo introdotto qualche anno fa, è un'evoluzione, è un taglio mid, è una scarpa da cacciare prettamente in pianura, su qualsiasi tipologia di terreno, prettamente terreni acquitrinosi, quindi bagnati, consiste in uno scarponcino interno e una ghetta termosaldata, andiamo a vedere nel dettaglio, praticamente la ghetta è totalmente impermeabile, ha un soffietto totalmente impermeabile, l'apertura è molto ampia, ha un sistema fast lock all'interno, quindi una lacciatura molto facile, si apre tirando questo loop esterno, si apre la calzatura, si calza, si sistema la lingua per andare a chiudere dolcemente la lacciatura, si attirano i due laccioli esterni ed ecco che la scarpa è allacciata, si ripiegano i lacci all'interno della ghetta, si tira la ghetta verso su, si richiude il soffietto e si chiude poi il ventro. Dopo la protezione, rende assolutamente impermeabile? Rende totalmente stagno e impermeabile la calzatura. Particolarità di questo prodotto è l'intersuola in microporosa e la nuova suola Crispy Cloud. Questa suola permette uno scarico molto veloce del fango, ha un grip eccezionale su qualsiasi tipo di terreno. È una calzatura dedicata a tutti i cacciatori, come dicevo prima, che praticano la caccia specialmente nei terreni bagnati, ok? Niente, che dire? Anche molto leggera. Molto leggera, sì, siamo attorno ai 650 grammi indicativamente su una taglia 42. Questi altri due sono, parlando femminile, sono delle sorelle maggiori di questo scarponcino. Questo è l' Island Pro che abbiamo introdotto l'anno scorso come novità. Funziona allo stesso modo, porta la stessa tecnologia all'interno, l'unica differenza è che qui non abbiamo il soffietto impermeabile, ma abbiamo una T-Zip a tenuta stagna. La T-Zip è la classica zip che si usa nelle mute da sub, per capirci, quindi a tenuta assolutamente stagna. Particolarità di questo scarponcino è la chiusura. Qui non abbiamo i lacci, ok? Il classico laccio che troviamo nelle normali calzature. Abbiamo un sistema rotore che si chiama BOA, è un sistema americano, ok? Funziona semplicemente così, si spinge il rotore verso l'esterno, ok? Si apre, diciamo, la lingua della calzatura, si allarga completamente, ok? Si calza, ok? Si chiude, si risistema la lingua come abbiamo fatto per il modello basso. Per chiudere, ok? Basta spingere il, agire con una leggera pressione sul rotore, si sente il click e si comincia a ruotare. E quindi stringe il cavetto? Ok, stringe senza punti di pressione, sostanzialmente va a chiudere, va a praticamente sagomare, ad abboggere il piede anche nei punti vuoti. Poi si fa il processo inverso, sostanzialmente, si tira su la ghetta verso l'alto, si chiude la T-Zip ed ecco il gioco è fatto. Anche questo è molto funzionale direi assolutamente, anche molto molto leggero. Qui non abbiamo ecco un'intersuola in microporosa, ma abbiamo un'intersuola in poliuretano, ok? Un sistema di ammortizzamento Crispy, crossbow frame chiamato, e una suola Vibram con mescola Mega Grip, ok? Una mescola particolare sviluppata da Vibram con un ottimo Grip e anche questa un ottimo scarico in terreni frangosi. Direi assolutamente dei prodotti funzionali, facili, ma con dietro sicuramente uno studio e un'attenzione particolare. C'è tanto studio, c'è tanta tecnologia all'interno e tanta passione per i prodotti dedicati ovviamente ai cacciatori, alla caccia in genere. È già disponibile sul mercato? Questo è già disponibile sul mercato, entrambi i modelli, questo sarà disponibile da luglio. Quindi per la nuova stagione diciamo, sì. Noi ti ringraziamo, ci facciamo un bocca al lupo e ci vediamo presto. Un piacere. Presto. Un piacere. Grazie a tutti.